allora forse possiamo ricominciare in pace andiamo un attimo bene bentornati per una nuova puntata un po movimentata di di questa appunto nuova puntata di fondersi nella latina volontà vedo che ci sono dei problemi non so che cosa ha combinato google che non si riesce a con me connettere lo streaming di youtube va bene quindi stasera andiamo soltanto in diretta instagram e facebook piccoli problemi tecnici un piccolo avviso anche nel senso che mi dispiace se qualche amico potrebbe trovare qualche problemino la confessa la connessione perché mi sono arrivate comunicazioni che a causa dell'emergenza coronavirus in italia ci stanno dei picchi molto molto forti di connessioni web e quindi pare che i sistemi siano un pochettino in in sovraccarico quindi ci potrebbero essere delle problematiche legate alla connessione comunque puntata travagliata siete che puntata sicuramente molto molto importante chi lo sa cosa ci riserva e la divina volontà questa sera siamo giunti alla trentaquattresima puntata di questo ciclo di carichesi siamo diciamo circa due tre quarti ecco del del nostro percorso e dentro il diciassettesimo volume se non ricordo male ancora siamo all'interno del diciassettesimo volume esattamente oggi ci aspetta un brano del 17 maggio del 1925 anche questo un brano abbastanza impegnativo come quello che abbiamo già precedentemente commentato che era quello del 10 maggio del 1925 un brano abbastanza impegnativo anche un brano abbastanza abbastanza lungo e vedremo un po dove ci porta il signore ecco perché è sempre meglio fare le cose bene e farle con calma piuttosto che fare poi le corse e non affrontare bene o approfondire bene queste piccole perle ecco tutte divine che il signore ci regala bene mentre mi permetto proprio questa sera ho visto un bellissimo un bellissimo video allora vi dico per l'ennesima volta alle persone che stanno connesse il video delle trasmissioni è alto il problema è che bisogna avere ben connessi i ricettori alzare il volume e se si tratta di computer o strumenti che non hanno un buon audio bisogna mettere gli auricolari le cuffie o qualche classe bluetooth perché in continuazione qualcuno durante varie trasmissioni anche volte durante le dirette insomma un po più impegnative comincia la canzoncina che non si sente ma si sente d'accordo perché se sentono tutti tranne che uno è un problema che sta nel dispositivo io capisco che in questi giorni evidentemente per ragioni ovvie no si accostano anche all'uso di questi strumenti magari anche persone non molto esperte ecco però bisogno sto cercando sempre di ricordare insomma quindi le trasmissioni con questi dispositivi dipendono sempre da due fattori la sorgente e il punto d'arrivo ecco quindi problemi possono starci alla sorgente o al punto d'arrivo problemi audio stanno al punto d'arrivo perché gli audio dei miei dispositivi per grazia di dio sono buoni particolarmente quando sono molto vicini a me parlo in viva voce senza l'ausilio di microfoni d'accordo quindi ci deve essere qualcosa che non funziona al punto d'arrivo e quindi auricolari cuffie casse bluetooth esterne e controllo dei volumi che siano al massimo è chiaro che su uno c'ha un computer che c'ha l'altoparlantino i computer quelli che girano con windows insomma che c'ha quello è chiaro che non sente niente d'accordo è meglio sentire queste trasmissioni per chi lo ha prende lo smartphone apre e facebook si mette gli auricolari sentirà benissimo bene vediamo se riusciamo a cominciare la lettura 17 maggio 1925 che dice così avendo fatto sentire al confessore ciò che sta scritto qui innanzi in data del 10 maggio che abbiamo visto nelle due puntate precedenti non è restato contento e mi ha imposto di riprendere a scrivere il modo di fondermi nel santo volere divino ed io solo per ubbidire per timore che il mio gesù potesse minimamente dispiacersi riprendo il mio dire quindi capiamo quindi nonostante diciamo l'estrema articolazione e abbastanza corposità dello scritto precedente non è ancora sufficiente quindi c'è un'ulteriore specificazione e puntualizzazione ora aggiungo che mentre si presenta nella mia mente quel vuoto immenso nel fondermi nel supremo volere la piccola bambina riprende il suo giro ed elevandosi in alto vuole ricambiare il suo dio di tutto l'amore che ebbe per tutte le creature nella creazione vuole onorarlo come creatore di tutte le cose perciò gira per le stelle ed in ogni scintillio di luce imprime il mio ti amo e gloria al mio creatore in ogni atomo di luce del sole che scende nel basso ti amo e gloria in tutta l'estensione dei cieli tra la distanza da un passo all'altro il mio ti amo e gloria nel gorgheggio dell'uccello nel battere delle sue ali amore e gloria al mio creatore nel filo dell'erba che spunta dalla terra nel fiore che sboccia nel profumo che si eleva amore e gloria sull'altezza dei monti e nelle profondità delle valli amore e gloria giro per ogni cuore di creatura come se mi volessi chiudere dentro e gridare dentro ad ogni cuore il mio ti amo e gloria al mio creatore vorrei che uno fosse il grido uno la volontà uno l'armonia di tutte le cose gloria e amore al mio creatore e dopo come se avessi riunito tutto insieme in modo che tutto dice ricambio d'amore ed attestato di gloria per tutto ciò che il dio ha fatto nella creazione mi porto al suo trono e gli dico maestra suprema e creatura di tutte le cose questa piccola bambina piccola bambina viene nel vostre braccio per dirvi che tutta la creazione a nome di tutte le creature vi dà non solo il ricambio dell'amore ma della giusta gloria per tante cose da voi create per amore nostro nella vostra volontà in questo vuoto immenso ho girato dappertutto finché tutte le cose vi glorifichino vi amino e vi benedicano e già che vi ho messo in rapporto l'amore tra creatore e creatura che la volontà umana aveva spezzato e la gloria che tutti vi dovevano fate scendere la vostra volontà sulla terra affinché vincoli raffermi tutti i rapporti tra creatore e creatura tutte le cose torneranno all'ordine primiero da voi stabilito perciò fate presto non più indugiate non vedete com'è piena di mari la terra solo la vostra volontà può restare questa corrente può metterla in salvo ma la vostra volontà conosciuta è dominatrice ora veramente bellissimo questo brano abbiamo visto due parole d'ordine amore e gloria entrambe da noi dovute all'altissima perché all'altissima è dovuto il nostro amore che non è altro che un piccolo ricambio del suo ma che cosa dico io al termine della preghiera e caristica no? dico per Cristo con Cristo ed in Cristo a te Dio Padre Unipotente all'unità dallo Spirito Santo ogni onore e gloria gloria significa gloria significa riconoscere che Dio è il più grande di tutti è il numero uno d'accordo? è quello che ha fatto bene tutte le cose è il perfettissimo è quello che tutto si merita può chiedermi tutto merita tutta la mia adorazione merita tutta la mia obbedienza d'accordo? solo Lui i uomini non meritano nessuna gloria d'accordo? eppure il Signore se andremo in paradiso ci glorificherà ce la darà Lui la gloria e tra l'altro ragione proporzionale proporzionate ai nostri meriti come la Chiesa insegna allora qui fa capire di nuovo un altro suo modo di fondersi che tra l'altro è abbastanza simile oserei dire la stessa cosa dei cosiddetti giri che si fanno nella Divina Volontà allora qui il fine è bisogna portare a Dio tutto quell'amore e quella gloria che tutti gli dovrebbero ma che quasi nessuno gli dà elevandosi in alto vuole ricambiare il suo Dio di tutto l'amore che ebbe per tutte le creature onorarlo come creatore di tutte le cose allora pensiamo ad alcuni passaggi in ogni atomo di luce che scende nel basso ci mette ti amo e gloria noi abbiamo idea di quanti possono essere gli atomi di luce che fuoriescono dal sole gli atomi cioè l'atomo è la particella elementare della materia io forse l'altissimo potrà contargli gli atomi di luce che partono dal sole che sta abbastanza lontanuccio insomma da qui fino ad arrivare fino a pianeta Terra quanti sono? poi in tutta l'estensione dei cieli forse Luisa non sapeva quello che diceva ma l'estensione dei cieli oggi noi scienziatissimi intelligentissimi qui sappiamo che si viaggia a trilioni di anni luce cioè sappiamo che significa trilioni di anni luce altro che un atomo di luce c'è un trilione di anni luce miliardi di miliardi di miliardi di anni luce anno luce 300.000 km al secondo cioè si prova a vedere insomma quanti quanti quant'è lo spazio di un anno luce facendo tutte quante le moltiplicazioni e qui da 300.000 al secondo moltiplicalo un minuto un'ora 24 ore per 365 e poi moltiplicalo per qualche trilione di anno luce ma gli scienziati oggi non sanno più a che santo votarsi insomma perché prima pensavano che l'universo fosse grosso adesso sono senza fiato sono senza parole e se mettiamo il nostro diamo in tutta l'estensione diciamo guardate questo possiamo farlo queste operazioni non sono operazioni non mi stancherò mai di dirlo poetiche d'accordo facciamo una bella una bella cosa caruccia d'accordo una cosa una bella poesiola fantastichiamo in questo modo ma tanto queste sono fantasticherie e no 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 perché si fanno queste operazioni nell'atto di fondersi col supremo volere quindi io faccio queste operazioni come unendo la mia volontà a quella divina perché 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 io possa ricevere la stessa capacità di quella divina che è appunto contenere e abbracciare tutte le cose cioè quando io faccio un atto fuso con la divina volontà se io metto un diamo in ogni atomo di luce del sole quel diamo ci va veramente non è un'operazione un ente di ragione dicevano i filosofi antichi un semplice pensiero che io formulo bel pensiero Gesù sarà contento ma è un bel pensiero no è un fatto reale se io metto il mio diamo in tutta l'estensione dei cieli vuol dire che ma che capito cioè forse l'altissimo conterà quanti diamo e gloria a te ti arrivano cioè che capite cioè l'estensione dei cieli è immisurabile almeno per noi comuni mortali capiamo insomma no e poi si scende anche nel come dire nel più nel più vicino nel corcheggio del nel corcheggio dell'uccello nel battere delle sue ali vediamo un po' altra cosa che soltanto Dio saprà quanti uccelli sono ci sono stati sul pianeta terra quanti ce ne sono adesso e quanti ce ne saranno fino alla fine quanti tanti e quanti battiri ideali avranno fatto ogni uccello di tutta quanta la sua esistenza terrena tanti no e tutti gli uccelli messi insieme quanti battiri ideali hanno fatto noi capiamo che moltiplicazione immensa che possiamo far arrivare all'altissimo nel filo d'erba che spunta dalla terra quanti fili d'erba sono spuntati sul pianeta terra spuntano e spunteranno fino alla fine del mondo qui sempre se qualcuno sa contare dato che sui social c'è sempre una grande smania di commentare scriva io li ho contati durante le dirette d'accordo oppure io ce ne ho una idea nel profumo che si eleva da cosa dai fiori ne sappiamo oggi siamo sempre scienziatissimi no i profumi sono composti da cosa sono composti pure quelli da da atomi no che noi li percepiamo attraverso i sensi appunto perché sono realtà materiali no così come i gusti che percepiamo i gusti sono stimolati semplicemente dagli atomi che dipendono dalla conformazione chimica delle sostanze che noi assumiamo quegli atomi che il nostro signore ha creato in certe sostanze in maniera tale da poter sollecitare le nostre papille gustative e quindi farci avvertire come gradevole il fatto di mangiare cioè attenzione che tutti quanti i dati cioè il contesto in cui stiamo vivendo adesso ma io penso che non sia casuale no che la divina volontà sia stata rivelata anche così avanti nel corso della storia perché io penso e in questo senso se mi posso permettere di citarlo insomma il cosiddetto libro di Teneramata al di là dello spazio del tempo di Riccardo Perez Hernández che è stato tradotto in italiano dal padre Pablo Martín chi conosce la divina volontà padre Pablo Martín non ha bisogno di presentazione per chi conosce questa cosa no e in quel testo che è comunque da considerare certamente una piccola rivelazione privata di un'anima beata quindi sempre nell'ambito della fede umana per carità no quindi senza farne un qualche cosa di più grande di quello che sia però quell'anima beata cioè io quando vedi che l'aveva tradotto in lingua italiana padre Pablo Martín dico mmm dico ti confesso che l'ho letto perché l'aveva tradotto in italiano padre Pablo Martín perché dico qui ci sarà qualche cosa sicuramente interessante per quanto riguarda la divina volontà ed in effetti c'è e come d'accordo perché alcune cose che si leggono in quel testo sono assolutamente ovvie e conseguenza diretta se uno ha cominciato un pochino a capire alcune dinamiche della divina volontà per esempio il concetto che lì viene viene espresso di di eternità creata cioè di come tutti quanti i nostri atti una volta che sono compiuti permangono fissi i mutati nel tempo ma anche soprattutto tutta quanto una serie di legami di relazioni che quest'anima beata imposta tra alcune cose proprio anche della gloria accidentale dei beati e le cose che oggi ci dice la scienza cioè fa riferimento agli atomi fa riferimento alla teoria della relatività di Einstein fa riferimento appunto alle velocità della luce con cui si muovono i beati e ai varie gradazioni di velocità della luce alla velocità del suono alla velocità con cui la terra gira intorno a se stessa e gira intorno al sole quindi connette tutta quanto una serie di cose che certamente duemila anni fa se un beato andava a finire in paradiso queste cose in paradiso sono tutti in paradiso diventiamo tutti scienziati cioè d'accordo su questo spero che tutti quanti siamo d'accordo ora il problema però è che queste cose le abbiamo in parte conosciute anche noi che siamo sulla terra è vero che la scienza ha portato anche tante sciocchezze ma non la scienza vera la pseudoscienza quella che viene presentata come tale ma tale non è un esempio su tutti è il cosiddetto evoluzionismo che non è scienza guardare il video di Antonino Zichichi che sul piano scientifico ha dimostrato che l'evoluzionismo non è scienza né di primo né di secondo né di terzo livello zero d'accordo è soltanto una teoria è una teoria non scientifica è una teoria filosofica tra l'altro perché non ha nessun fondamento scientifico proprio della scienza esatta carilegiana zero d'accordo e nonostante questo dovunque uno si gira oggi tutto quanto ciò che attiene a certa evoluzione viene dato per ovvio e per scontato compresi tutti quanti i numeri insomma stratosferici insomma che sono tutti quanti da dimostrare io poi sto cercando piano piano di informarmi un po' anche ho trovato il problema dei cosiddetti fossili non è vero che un fossile richiede centinaia di migliaia di anni per essere formati insomma ho cominciato a vedere qualcosa insomma non sono in grado di fare però ho già alcuni stimoli che mi hanno aperto un pochino le orecchie e il cervello no? quindi allora dicevo il profumo ho divagato in questo modo sul profumo che eleva cioè una profumo cioè quando noi avvertiamo una scia di profumo e io metto il mio ti amo in quella scia di profumo e dico al Signore guarda che in tutti gli atomi di cui è composta questa sostanza io ci metto il mio ti amo ma capite quanti cioè quanti trilioni di atomi stanno contenuti in una e quindi che botto che gli arriva al nostro Signore cioè perché gli arriva eh cioè veramente qualche cosa di impressionante sull'altezza dei monti e nella profondità delle valli queste sono diciamo scene che impressionano evidentemente insomma la nostra sensibilità vedere insomma lo scenario di una quando uno va su un alto monte e vede la profondità delle valli rimane impressionato da questo spettacolo questo questo è un ti amo piccolo rispetto a quello fatto con gli atomi che scendevano dalla dai raggi di luce del sole no questo è piccolo questo qui no e poi continua e poi attenzione poi raggiunge tutte quante le creature umane d'accordo tutte voi ogni cuore questo noi possiamo farlo possiamo farlo perché non perché io posso come dire appropriarmi del cuore o di un'anima altrui d'accordo no ma attenzione questa è una cosa che deve essere compresa bene se no non ci muoviamo al nostro agio in questo anche perché questa è una delle caratteristiche tipiche delle cose che Gesù ha cercato di far capire a Luisa ed importanti perché determinano come sappiamo un modo di pregare peculiare particolare che prima di averlo sentito qui io non l'avevo sentito mai da nessuna parte non mi era manco passato per la pre-anticamera del cervello di andare insomma a immaginare che si potessero fare cose di questo genere assolutamente non ho una conoscenza tale da poter escludere che è stato possibile ma sappiamo che è Gesù che ha detto a Luisa vai fa buon divertimento leggi tutte quante le vite libri dei santi che vuoi e poi guarda se trovi qualcosa di simile quindi io in quello che io ho letto che certamente è limitato mai sentito niente di tutta quanta questa roba qui no quindi si può andare in tutti i cuori perché perché ogni istante di ogni vita umana di ogni anima umana presente passato e futura è presente alla divina volontà alla divina volontà non sfugge nulla quindi quando io entro nella divina volontà io sto in quel momento dappertutto si tratta semplicemente di con un atto della mia volontà di cominciare a muovermi dentro tutti quanti questi ambiti che per la potenza della divina volontà divengono disponibili a me e posso in questo modo abitarli utilizzarli per farci cosa ti amo e gloria al mio creatore ti amo e gloria al mio creatore ti amo e gloria al mio creatore è chiaro che se io gli dico al signore ti metto un ti amo un gloria in ogni cuore umano d'accordo allora lui lo sente però è chiaro che purtroppo magari bastasse questo perché non faremo altro la mattina o la sera perché se bastasse il mio ti amo e il mio gloria nella divina volontà che raggiunge i cuori di tutti se questo fosse sufficiente andrebbero con una volta solo con una panoperazione di questo genere andrebbero tutti in paradiso sappiamo che Gesù spiega e questo non è così l'effetto che questo atto produce è anzitutto riparare il mancato ti amo e la mancata gloria a Dio che le altre creature omettono di rendere a lui come sarebbe dovuto perché Dio è dovuto tutto il nostro amore e tutta la gloria possibile e immaginabile amerai il Signore di Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze è il primo comandamento d'accordo e quindi ripariamo quello che non fanno e al tempo stesso questo è sempre l'altro aspetto che dobbiamo ricordare attiriamo una grazia in quel cuore che non sappiamo quale come quando se sarà accolto oppure no comunque attiriamo una grazia particolare che a quel cuore gli farà bene se è lontano da Dio una grazia che cercherà di provocarlo alla conversione se sta già in cammino che faccia un salto di qualità se sta in cammino ma sta ancora invischiato in qualche peccato che lo lasci se sta facendo un buon cammino ma non gli spuntano le ali per andare verso la perfezione che si decida ad andare ad andare che si zavorri da alcune cose che ancora lo trattengono eccetera ecco e fate tutte queste cose gli dice guarda ecco qua la tua bambina è venuta e ti devo dire una cosa signore mio guarda che tutta la creazione tutta ti ama e ti dà anche la gloria per tutte le cose che tu hai creato questo è quindi siccome io ho fatto questo tu adesso mi devi fare un gran regalo fai scendere la tua volontà sulla terra affinché tutto quello di brutto che vediamo possa essere diventare un possa presto diventare un brutto ricordo ecco ok proseguiamo secondo step dopo ciò sento che il mio ufficio non è completo perciò scendo nel basso di quel vuoto per ricambiare il mio Gesù nell'opera della redenzione qui apriamo un'altra parentesi parentesi importantissima qui stiamo in quaresima e come se trovassi in atto tutto ciò che lui fece voglio dargli il mio ricambio qui c'è un passo spettacolare di tutti gli atti che avrebbero dovuto fare di tutte le creature nell'aspettarlo e riceverlo sulla terra e poi come se mi volessi trasmutare tutto in amore per Gesù ritorno al mio ritornello e dico qui adesso c'è veramente uno show unico fatto da da Luisa io se mi posso permettere consiglio vivamissimamente non vivamente le anime soprattutto per quando ricominceremo quando Dio vorrà a partecipare alla Santa Messia a poter fare la comunione io consiglio mi permetto di dare un consiglio il primo consiglio è un consiglio che lo chiamiamo consiglio ma chiamiamola raccomandazione e chiamiamola anche materia obbligata di riflessione in questo tempo in cui stiamo senza comunione in questi giorni io sto battendo il ferro perché è caldo quando si rifarà la comunione tutti quelli che adesso stanno soffrendo guai a loro mi permetto di utilizzare questo linguaggio come dire biblico guai a voi guai a loro se si azzardano ricevuta la comunione a non stare un quarto d'ora in stato di puro amore con Gesù e Eucharistia guai a loro va bene ecco e quando dovesse succedere che in questo quarto d'ora che guai a chi quando le cose rimetteranno a posto continuano a farlo perché è una mancanza imperdonabile di amore di riguardo a Gesù Eucharistia per quanto mi riguarda dalla stragrande maggioranza dei fedeli di cui purtroppo io sono testimone fatta sempre e senza nessuna remura di coscienza se non ci avessi il cuore acceso d'amore non è te partita la scintilla non è te partita la fiamma per cui non sei capace tu di dire a parole tue tutte le cose che adesso sentirai dirgli da Luisa portati dietro queste cose che sto per leggere e digliele con calma senza correre facendo le tue e con tutto il cuore perché così comincerai a imparare quello che si deve fare soprattutto quando c'è Gesù nel cuore non solo quando c'è Gesù nel cuore ma soprattutto quando ce l'hai cioè figlioli mei cari è assolutamente imperdonabile a mio avviso che si riceve il sacramento dell'amore qui ognuno di noi deve fare l'esame di coscienza lo deve fare io parlo d'accordo ma poi le mie parole calono in chi ascolta queste cose ognuno nel proprio silenzio si deve mettere davanti a Gesù e dire senti po' io come l'ho trattato fino a oggi che razza di comunioni ho fatto punto interrogativo se fosse andato tutto bene Dio ti benedica d'accordo queste cose che sto dicendo non sono per te ma se è andato qualcosa male sta cosa sta cosa deve finire deve finire deve finire perché una comunione presa in questo modo è meglio non prendersela d'accordo è meglio non fare è meno peggio e infatti adesso non la stiamo facendo d'accordo allora guardate che bello cosa dice a Gesù questo è un ricambio di Gesù nell'opera della redenzione ma adesso siamo in siamo in siamo in siamo in quaresima anche quando viviamo la santa messa ma lì durante la santa messa figli o di me c'è Gesù che sta soffrendo in croce d'accordo in croce sta morendo per noi cioè la messa è il calvario in atto qui e ora durante la messa non dovrebbe volare mezza mosca d'accordo durante la consagrazione ci dovrebbe essere un silenzio che si taglia col coltello procedere con calma ma che fretta c'è oi quando andarono cioè la messa dei padri io non dico la messa dei padri ma tutti quanti sanno che la messa dei padri durava tre ore anche perché quello nostro signore di Pia gli faceva colare le mani il costato i piedi quindi se te va bene questo se no cambia messa ma una volta andarono da Roma con l'orologio e hanno visto che la messa dei padri di Pia durava tre ore gli hanno detto dice padre tre ore di messa ma la messa ci vuole mezz'ora per dirla e quello ha detto dice come ma mo ci dobbiamo mettere col cronometro e col orologio davanti al nostro signore scusate ma quanto tempo c'è stato in croce il nostro signore Gesù Cristo detto fra me e voi quanto dall'ora sesta all'ora nonna e quant'è so tre ore so tre ore no che dica la messa dei padri durasse tre ore ma qual è il problema per dire sto esagerando sto no non devo la mosca non dovrebbe esistere d'accordo che io spero che chi ascolta queste cose non lo faccia certo un imprevisto può accadere no ma un parroco sa nelle varie comunità parrocchiali in cui è stato che ci sono degli andazzi brutti arrivare a messa in ritardo è una cosa brutta cioè capito se a me una persona supponiamo che a me mi desse udienza il presidente della repubblica mi dice viene o il vescovo a me mi chiama il vescovo mi dice vieni ti devo parlare devi venire alle nove e mezza io mi presento alle dieci meno un quarto ma sono un cafone di prima categoria ma come te permetti dal vescovo arrivare a un quarto di ritardo ma che il vescovo sta aspettando a te cioè siamo d'accordo su questo chi sta facendo le dirette insomma dice no non è un cafone chi fa così cioè se ti chiamo una persona importante e tu arrivi in quarto d'ora dopo per me sei un cafone ma scusate ma il nostro signore Gesù Cristo sarà più importante del vescovo o del presidente della repubblica se la messa comincia alle undici a tu non puoi arrivi alle undici un quarto a meno che sai sono uscito incidente tutti i semafori cioè le cose che non dipendono dalla nostra volontà per carità ma se tu proprio cioè vabbè ho canna messa sbrigiamo ho fatto cinque vabbè fa niente cioè non può essere questo qui un andazzo cioè perpetuo generalizzato non è possibile non va bene e su questo non bisogna cioè non bisogna aspettare la predica di Leonardo di chi per lui che te le dice ma è possibile che uno non ci arriva a queste cose qui cioè perché non ci arriviamo attenzione perché non ci fermiamo a pensare un po' in sacro silenzio ed ecco perché stiamo a fare tanto sacro silenzio perché il silenzio è l'ambiente della riflessione quando uno fa gli versi spirituali sta una settimana in silenzio perché perché tu devi pensare a quello che stai a combinar devi fare una revisione di vita ti devi mettere davanti a voglia pianti che te devi fare se ci stanno da farseli se non ti fermi mai tu continui a vivere come un pazzo d'accordo come uno scriteriato e non te ne accorgi purtroppo sui giorni il mio cuore di sacerdote non resiste nel senso che tutto mi sembra un po' convergere parlare anche dentro questa realtà particolare che stiamo vivendo quando le cose torneranno alla normalità perché torneranno alla normalità tra una settimana tra un mese tra due mesi tra sei mesi ma torneranno alla normalità d'accordo non credo insomma che se ne possa dubitare ma noi usciremo cambiati da questo pure no migliorati da questo pure no perché per questo il Signore sta permettendo queste cose sicuramente sicuramente oltre che per tante altre buone motivazioni d'accordo tra cui insomma dare anche un po' una regolata all'uomo che con questa globalizzazione si crede insomma che è un padrone dell'universo però basta un virus a far saltare per aria tutto il sistema mondiale d'accordo quindi insomma è anche questa una considerazione su cui riflettere no? sentite che parole qui che usa Luisa ripeto uno le copia oppure fa lo screenshot se c'ha il libro digitale d'accordo oppure fa riprovare il brano se inventa qualcosa d'accordo l'importante è che uno ce l'abbia dietro perché se dopo che hai fatto la comunione che non scappi via appena il padre dà la benedizione prima del canto finale come se stessi seduto sulla graticola d'accordo ancora con le specie non consumate dentro di te come fanno in molti d'accordo in molti anzi in moltissimi anzi per quanto riguarda la mia esperienza in quasi tutti e chi non lo fa io sono stato adesso qui è poco questo qui sono stato tre anni e mezzo questo qui la parrocchia che ho lasciato sono stato dieci anni quindi dopo dieci anni tu vedevi dopo la messa che almeno una decina una quindicina di persone si fermavano so poche ma gli avevo fatto una testa così per dieci anni la testa così sono vive possono testimoniare se qualcuno se lo dico io d'accordo quindi dagli oggi dagli domani alla fine insomma no? allora parole di Guisa come se mi volessi trasmutare tutta in amore per Gesù ritorno non mi ritorneranno e gli dico guardate questo probabilmente se l'ha inventato lei allora dovrò arrivare un giorno vi prego di ascoltarmi bene che tu ti inventi il tuo una composizione del genere gliela fai tu a Gesù tu a parole tue ti inventi qualche altra cosa e ti verrà da inventarti qualche altra cosa se comincia a sintonizzarti su altre frequenze se butti quel benedetto chiamiamolo benedetto per non dire un'altra cosa orologio possibile che abbiamo sempre l'orologio quando stiamo con il nostro Signore con il Domine Dio butta quell'orologio buttalo succede niente e te fermi dieci minuti in più con lui non succede assolutamente anzi tutto di quello è bagnato ti amo nell'atto che fosti concepito ti amo nella prima goccia di sangue che si formò nella tua umanità ti amo nel primo palpito del tuo cuore chi non ha mai sentito queste parole pensi adesso ho mai detto mi è mai venuto in mente una cosa del genere glielo ho detta se glielo hai detto Dio ti benedica hai tutta la mia ammirazione tutta la mia stima tutto il mio rispetto e anche di più ti amo nell'atto di scendere dal cielo in primo il mio diamo nell'atto che fosti concepito nella prima goccia di sangue che si formò nella tua umanità guardate proprio cioè voi capite una mente e un cuore che si applicano quindi che vanno a cercare queste cose peculiari quasi che volessero sorprenderlo a Gesù e sicuramente Gesù ha avuto un coccolone una reazione ma guarda queste belle cose che mi dice che me le dovrebbero tutti ma non ha detto nessuno secondo me ce l'ha avuta io non mi sbaglierò quando andavo dell'anno questo signore mi tirerà le orecchie insomma se sto dicendo delle stupidaggini ti amo nel primo palpito del tuo cuore attenzione per segnare tutti i tuoi palpiti col mio ti amo ci abbiamo mai pensato quanti palpiti avrà fatto il cuore di Gesù dal primo battito fino all'ultimo quando è morto di crepa cuore sulla croce perché Gesù attenzione che è morto di crepa cuore questo lo dimostrano gli studi sindonici Gesù non è morto soffocato in croce Gesù in croce si è spaccato a un certo punto il cuore e lo dimostra il siero e l'acqua usciti dalla trafittura del costato io ho fatto tantissimi incontri prima di Pasqua sulla sindone cioè la causa della morte di Gesù si chiama in medicina infarto per fissurazione il cuore si è proprio spaccato e ha provocato quel deposito appunto di acqua e di siero che poi è fuori uscito dalla lanciata del centurione romano quindi quella marea d'amore che Gesù incontenibile aveva a un certo punto è arrivato a un estremo tale che gli ha spaccato cioè quel cuore che ha tanto amato il mondo non ce l'ha fatto più a contenerlo perché quanto fosse il cuore del figlio di Dio era comunque un organo umano che a un certo punto ha fatto boom capito? e prima che fesse quel boom quanti palpiti ha fatto? noi abbiamo circa 60-70 battiti al minuto andiamo a vedere in una giornata quanti minuti ce stanno? quindi quanti palpiti in 33 anni quanti palpiti? tanti palpiti ha avuto ogni palpito del cuore del figlio di Dio ogni tun tun ogni movimento di diastole e sistole del cuore di Gesù ma hai capito che cos'è un movimento di diastole e sistole del cuore di Gesù è tanta roba e questa donna ha pensato di andarci a mettere un ti amo ad ogni battito del cuore di Gesù l'abbiamo mai fatto noi? ci è mai venuto in mente? ti amo nel tuo primo respiro il respiro perché Gesù ci ha avuto un primo respiro anche lui come tutti gli esseri umani ti amo nelle tue prime pene pene che sono cominciate nel grembo della Madonna non quando è uscito ti amo nelle prime tue lacrime che versasti nel seno materno lui solo sapeva le prime lacrime ci sono le avversate quando è nato e ci aveva freddo e stava nel freddo della stalla di Betlemme le ha versate nel grembo della madre ha cominciato a piangere per me e per te voglio ricambiare le tue preghiere le tue riparazioni le tue offerte col mio ti amo ad ogni istante della tua vita terrena voglio suggerire col mio ti amo ogni istante ti amo nel tuo nascere ti amo nel freddo che soffristi ti amo in ogni stilla di latte che succhiasti dalla tua mamma vi prego di notare la fantasia innamorata di questa di questa donna ogni stilla di latte che Gesù ha succhiato deve trovare il ti amo una meditazione una meditazione sulla passione di Gesù un più esercizio come la stupendissima e comunque lodevolissima e raccomandabilissima via cruci soprattutto nei venerdì di quaresima che è esercizio oltremodo santificante no noi quando preghiamo l'ora della passione si azzerano le confine del tempo e dello spazio tutte le preghiere che noi facciamo tutti quanti i baci che noi diamo tutti quanti ti amo le riparazioni che si fanno cioè l'ora della passione non è semplicemente una meditazione sui dolori di Gesù no è una partecipazione interattiva a quello che Gesù ha vissuto tu la fai oggi nel 2020 ma attenzione quello che tu fai oggi nel 2020 Gesù l'ha sentito nell'anno 29 o 28 o 30 quando è stato che quelle cose le ha vissute e ogni volta che tu la rifai è un farglielo sentire di nuovo questi sono misteri questi qua sono misteri perché ci andiamo a immettere a proiettare in un mondo che non è il nostro è quello divino nel mondo divino le confine di spazio e di tempo non ci stanno più per noi sì ma per lui no allora sapete cosa significa andare a dire a Gesù ti amo in tutte le stile di latte che succhiasti dal seno della tua mamma significa che Gesù mentre mi ripeniva allattato al seno di Maria ha sentito e ti amo che Luisa nel tempo gli avrebbe formulato 2000 anni dopo 1900 anni dopo non sono favole questi non sono non sono anche qui pensieri o modi di dire è così poi il paradiso lo vedremo chi ci arriverà se il nostro signore dirà ti ricordi quelle cose ma questo non è che sto dicendo io come cose mie sono cose che ho capito alla luce di quello che ho imparato da questi scritti certamente anche sulla base delle cognizioni teologiche che ho e che mi hanno aiutato diciamo così a capire bene certe cose intendo riempire con i miei ti amo le fasce con cui la tua mamma ti fasciò stendo il mio ti amo sopra quella terra in cui la tua cara madre ti adagiona alla mangiatoia e le tue tenerissime membra sentirono la durezza del fieno ma più che del fieno la durezza dei cuori il mio ti amo in ogni tuo vagito chi di noi li abbiamo voluto di mettere in testa di mettere un ti amo in ogni vagito fatto dall'infante Gesù faccio scorrere il mio ti amo in tutte le tue lacrime e pene della tua infanzia in tutti i rapporti comunicazioni amore che avresti con la tua mamma chi di noi ti amo in tutte le parole che dicesti quante parole ha dette il figlio di Dio neanche una è inutile d'accordo ma ne ha dette d'accordo nel cibo che prendesti vogliamo che nel cibo che Gesù ha mangiato ci sia il nostro ti amo qualunque cosa abbia assunto adesso lasciamo perdere questi 40 giorni che stiamo celebrando a fatto di giorno assoluto no però ecco ma mangiamoli ordinariamente nei passi che facesti vediamo che in ogni passo che Gesù fa senta il mio ti amo nell'acqua che bevesti Gesù beveva abbiamo sentito non so se proprio in sede di questo ciclo di catechesi in una meditazione recente che ogni volta che tu ti bevi un bicchiere d'acqua c'hai una marea i ti amo divini che ti entrano dentro che sono portati in tutto il corpo perché dentro ogni creatura Dio per noi c'è il suo ti amo ci manca il nostro ma il suo c'è sempre anche quando non è da noi riconosciuto ci vogliamo mettere a fianco al ti amo del padre anche il nostro sull'acqua che ha bevuto Gesù o no ti amo nel lavoro che facesti con le tue mani ti amo in tutti gli atti che facesti nella tua vita nascosta suggello il mio ti amo in ogni tuo atto interno e pene che soffristi sentite stendo il mio ti amo su quelle vie che percorresti nell'aria che respirasti anche qui a ogni ispirazione che noi facciamo sapete quanti atomi di roba ci sono entrati dentro tra idrogeno ossigeno e tutto il resto delle componenti dell'atmosfera quanta aria ha respirato Gesù quando è stato sul pianeta Terra da quando è nato fino a quando è in motanta no quanti trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di trilioni di atomi di idrogeno e di ossigeno ha ispirato quanti vedete questo che bello questa è un'altra fusione d'amore girante stavolta nella persona di Gesù nelle opere compiute per la nostra redenzione in tutte le pratiche che facesti nella tua vita pubblica il mio ti amo scorre nella potenza dei miracoli che facesti dei sacramenti che istituisti in tutto mio Gesù anche nelle fibre più intime del tuo cuore in primo il mio ti amo per me e per tutti per me sempre e per tutti il tuo volere mi fa tutto presente ed io attenzione a questa frase il tuo volere mi fa tutto presente ed io nulla voglio lasciarti in cui non ci sia impresso il mio ti amo la tua piccola figlia del tuo volere sente il dovere che se altro non sa farti almeno abbia il mio piccolo ti amo per tutto ciò che hai fatto per me e per tutti e perciò il mio ti amo ti segue in tutte le pene della tua passione in tutti gli sputi disprezzi insulti che ti fecerono questo basta pregare con attenzione alle ore della passione e vedere anche tutto quanto l'amore che lui si approfonda e che noi possiamo fare nostro il mio ti amo suggera ogni goccia del tuo sangue che versasti ogni colpo che ricevesti ogni piaga che si formola nel tuo corpo ogni spina che trafisse la tua testa nei loro ricerbi della crocifissione nelle parole che pronunzesti sulla croce fin nell'ultimo tuo respiro intendo imprimere il mio ti amo voglio chiudere tutta la tua vita tutti i tuoi atti con il mio ti amo dovunque voglio che tu tocchi che tu veda che tu senta il mio continuo ti amo il mio ti amo non ti lascerà mai il tuo stesso volere è la vita del mio ti amo noi comprendiamo insomma che roba no? se uno questo se lo portasse e ripeto se rimanesse senza parole che non fosse capace di inventarsi qualcosa di simile cosa che sarebbe per noi oltremodo doverosa per Gesù bene comincia ad esercitarti con questo quindi a perché se tu le fai tue queste cose qui le puoi prendere le tue e cominci diciamo così ad abituarti perché i rapporti su cui devono sintonizzarsi i nostri rapporti con Gesù e con Maria sono solo questi la vita nella divina volontà è vita di amore amore che certamente non è soltanto una esternazione sentimentale poi diventa un amore operativo come dice Gesù nello Vangelo se mi amato ha osservato i miei comandamenti se lo ami lo dimostrerai con tutti quanti i sacrifici che si farebbe per lui con le rinunce abbracciando sempre la sua volontà anche quando non ti piace eccetera eccetera ma questo è comunque proprio è l'anima della vita nella divina volontà abbiamo visto queste due forme di fusione questa fusione realizzata attraverso questi spettacolari giri nelle opere della creazione e nelle altre creature e poi nelle opere della redenzione polarizzandosi sulla persona di Gesù e su tutto quello che lui come uomo ha fatto e vissuto da quando è stato concepito fino a quando è morto dentro un orizzonte di amore questo è amore purissimo questo qui bene ci aggiorniamo se Dio vuole la prossima settimana vi do come sempre la mia benedizione a tutti aveva vai grazie a tutti